su chorus per andare un po' avanti allora allora al momento siamo su nemica e abbiamo 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 solamente la missione principale che a sto punto non so se sia quella vabbè che penso che sia indifferente spazio porto di silva che devo fare andando lì no? spazio porto di silva credo o mi sbaglio chissà chissà se è quello il posto oppure no ci sto arrivando vediamo un attimo si ok e speriamo che ci facciano passare me lo auguro salve carissimi chi sei tu il giro? il tabletto. Qual è il nome del Seeker? Si è Nara, che ha entrato il rift da mia parte, che è tornato non scattato, e che credo con la mia vita. Questa è la vera tutta? Si. Si è... exaltata. Ci riconosciamo come Nara, come uno di noi, proteggendo da noi e proteggendo da noi, per sempre. Vi entrare il Seeker, e imparare dalla tabletto. In Chorus, Guardian. In Chorus. Ok. Siamo riusciti ad entrare. Ebbene sì. Noi. Noi. Siamo la città di corruzione. La Facilessi non può manipulare noi. Anche il Prophè non ha ottenuto questo Stato. Ma io dovrei. Ma io dovrei. Ma io dovrei. La tua scuola è iniziata. Parti di Sirius' propria legione hanno mutato, e molti seguono, ma è lo stupendo. Alla. le persone di Nimica sono stupendo, ancora. Ma... ... 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 gigante che non si muove neanche pagandola fantastico perché vai ad incontrare i comandi ok vabbè ma è lentissima raga ma è qualcosa di veramente lento ma sapete cosa vuol dire se magari guidare un trattore cioè è lentissimo vabbè non sono abituato a guidare una roba così lenta onestamente non sono per niente abituato andiamo su va sto arrivando credo mamma mia aiuto e mi riesco a seguire perché sono impegnato allora guardiamo un attimo oh quanta sono tutti contro di me io sono troppo lento qua di problema ce la posso fa ce la posso fa che la posso is free. All set, we'll do this together. They come. Time to hunt. Good to have you. Yes, I heard Cyrus twisting the Prophet's words. It does not go unpunished. And Hitley's inside. Let's hunt him. Recavolo Ecco trovato E qual è già il rituale della tempesta scusatemi eh Ecco E che scappa Oh te ne sei cercata Io non ho capito Saris alla fine era un nemico Questa cosa non l'ho ben capita Era un traditore Per forza Ma tu non puoi essere uno di noi dopo questo Tu passi è diverso Tu sei molto più che un sottotitore Tu sei un sottotitore Tu sei un sottotitore Tu sei un sottitore La persone che vedono in te Cosa è perdita nel profitto Non conoscono me Non conoscono te come Cosa che non ho cercato di uccidere I cittadini di cerco Tu scusate la corruzione E ora il cerco Può risultare I cannot lead them Greed Your path Is different Go Nora Hunt him I will In chorus brother In chorus Sister Ok Ok Allora Allora cosa possiamo fare ora Missione completata E questo molto bene Però qui non possiamo fare nulla Allora Andiamo un attimo Intanto Arrivo là Anzi qua Quindi ci becchiamo tra poco Ho trovato una secondaria Ho trovato una secondaria In questo punto Mentre andavo là Ci trovo Calma Calma Oh Allora 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 Thank you Era solo questo? Nella nient'altro Attività rilevate E dove? In quale punto? Enemica Prime Sa Delle parole Richiesta Andiamo a sentire Un attimo A sto punto Chi è? Guardiamo un secondo Questo Ok si può fare Un dibattito acceso Vabbè andiamo a far sta missione Quanti cavolo Allora Ehi Dove stai? Ok Cioè in che senso Scusate Sapevo io che non era finita Sembrava un po' poco onestamente Tempesta livello 5 tra l'altro Mentre che Ma dove cavolo state? Ah ma ce n'è anche tipo gigante Ancora Niente un vizio Questa è già più pesante Come ondata Aspetta quella prima No Oh non sono morto Non so come ho fatto a sopravvivere Onestamente Ma un po' di vita Vi fa schifo? Oh Thank you Questo è vero Vita 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 Ok Ok C'è manco un altro Vamos Un altro Ok Ok dai La maggior parte è andata Eh ma C'hanno anche i cannoni Cioè Avrei messo qualcos'altro Ce l'ha fatta Cosa manca Grande Ottimo Eh è stata dura però eh Non è stata così facile Pensavo fosse un pochino Più semplice In realtà Invece no Invece no Per nulla Abbiamo fatto Unghia di nemica Andiamo un po' Se ne può servire Direi di sì Direi di sì Maestria Livello 5 Tempesta Ok Ah parla di noi Fantastico Eh Sì Può bastare Ragazzuoli A sto punto Per il momento Mi posso Fermare Ci becchiamo In un prossimo Episodio Direi E Niente Andremo avanti Con Qualche secondaria Magari con Una primaria Vediamo un po' Cosa fare Però andiamo avanti Nel prossimo episodio Ragazzi Alla prossima Ciao